Musica Rientrata l'emergenza ambientale dopo l'incendio nell'azienda di rifiuti si attendono i risultati delle analisi ARPA e Sindaca su quanto accaduto. Un'auto della polizia è stata tamponata da un tir ribaltandosi fuori strada, è successo in A1 in territorio di Cassino e due agenti sono feriti lievemente. Gravi due operai di Sora dopo l'incidente che ha visto la loro auto schiantarsi contro un muretto di una casa, sul posto anche un'eliambulanza. Il neosindaco di Cassino Enzo Salera in una affollatissima sala Restagno nella giornata di ieri ha presentato la sua nuova giunta. Un finanziamento di 70 mila euro investito per migliorare ed ammodernare l'illuminazione pubblica a Povigliernica si parte dal centro storico. La società canarina avrebbe trovato un accordo con il Parma per il trasferimento di Camillo Ciano a sbloccare l'accordo il prestito di Scavone. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Lazio Tg della provincia di Frosinone, lo avete sentito nei titoli. È terminata l'emergenza ambientale dopo il terribile incendio nell'azienda di rifiuti che si è sviluppato l'altro ieri. Ora si attendono i risultati delle analisi dell'Arpalazio ma si indaga anche su quanto accaduto. È rientrata l'emergenza per la nube di fumo che ha invaso Frosinone ma c'è attesa per i risultati delle analisi ARPA che dovrebbero arrivare in giornata per conoscere con maggiore precisione le sostanze che si sono sprigionate in aria. Intanto si fanno due calcoli su quello che ha comportato questa emergenza. 30 unità dei vigili del fuoco, 7 mezzi di cui 2 per Movimento Terra hanno lavorato incessantemente da quando è arrivata la prima richiesta di intervento. Le operazioni sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri senza sosta. Notte e giorno impegnate a domare prima e a tenere sotto controllo poi l'incendio allo stabilimento Mekoris. Nel capoluogo una giornata davvero speciale, in particolare nella parte bassa. Sembrava per tutta la giornata di ieri essere scattato un vero e proprio coprifuoco. Abitazioni con porte e finestre chiuse, molte saracinesche dei negozi abbassate, uffici, banche, uffici postali, aziende, scuole chiuse. Soprattutto nell'area vicina è circostante il luogo dove l'altro ieri si è scatenato l'inferno. La città si è addormentata a volta da una spessa coltre di fumo e si è svegliata ieri mattina con la stessa nuvola, con l'aria irrespirabile soprattutto durante le prime ore per una concentrazione spaventosa di polveri sottili. L'attesa ora, come si diceva, dei risultati dei rilevatori ARPA recuperati dopo le prime ore di incendio ieri mattina e inviati nei laboratori specializzati. Al termine dello spegnimento dell'incendio saranno avviate anche tutte le procedure e gli accertamenti specifici per chiarire cosa abbia provocato il ruogo e se sia trattato o meno di un incendio doloso. C'è stato un incidente questa mattina in A1 tra Cassino e San Vittore del Lazio, coinvolta un'auto della polizia che dopo l'urto è finita fuori strada. I due agenti a bordo dell'auto non hanno riportato ferite tali da far temere per la loro vita. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che a causare ribaltamento intorno alle 5 sia stato il tamponamento con un mezzo pesante, probabilmente un tir. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi. La dinamica è ancora al vaio. I due agenti cassinati sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Sono gravi invece le condizioni di due operai che nella giornata di ieri con la loro auto si sono schiantati violentemente contro un muretto. È stato infatti necessario l'arrivo di un'eleambulanza. Ancora gravi le condizioni dei due operai dopo lo schianto violentissimo contro un muro di recinzione in pietra. È successo ieri in via Selva ad Isola dell'Iri. I due operai sorani, a bordo di una Fiat doblo grigia, hanno impattato contro il muro posto all'interno del bialetto di una casa. Uno degli abitanti, che aveva da poco varcato il cancello e altri testimoni, hanno raccontato che il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo della vettura dopo l'urto con il dosso antivelocità poco distante. Tutto è ancora al vaio dei carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Un impatto che ha costretto i medici ad allertare un'eleambulanza, nonché i carabinieri, i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 da Sora e Arpino e un'automedica da Atina. Troppo gravi i traumi e le lesioni riportate in diverse parti del corpo. Attualmente il 31enne si trova al Goretti di Latina, mentre il 39enne più grave all'Umberto I di Roma. Nella scorsa notte dei malviventi hanno tentato di rubare nella gioielleria valente di Cassino in corso della Repubblica. I ladri di gioielli sono stati messi in fuga dai cittadini e dal sistema di allarme. Hanno provato a sfondare le vetrine, ma il fracasso ha richiamato l'attenzione dei residenti che hanno iniziato a gridare lanciando oggetti. Nel frattempo è entrato in funzione il sistema di allarme collegato con la centrale della Polizia di Stato. In pochi minuti in lontananza si sono iniziate a sentire le sirene, il colpo quindi è andato a vuoto. Una chiesa gremita a Cassino per l'addio a Domenico Gargano, più volte sindaco, presidente dell'amministrazione provinciale e consigliere regionale, si è spento all'età di 97 anni, un uomo che ha lasciato il segno in città, una figura storica e carismatica che nel corso della sua lunga vita politica ed amministrativa ha contribuito in maniera determinante al completamento della ricostruzione post bellica della città di Cassino, avviando la crescita economica, sociale e culturale. La sua più grande scommessa vinta è stata all'istituzione dell'Università degli Studi di Cassino. A dargli l'ultimo saluto c'erano quanti lo hanno amato e apprezzato, c'erano gli ex sindaci, i politici dell'intera provincia e non solo, personalità di caratura nazionale, tra queste il presidente Lotito, l'ex questore e prefetto Nicolò D'Angelo. E ancora restiamo a Cassino, dove il neo sindaco Enzo Salera ha presentato la sua giunta. Sentiamo. Il nuovo sindaco di Cassino, Enzo Salera, ha ufficializzato la sua giunta. È formata da quattro uomini e tre donne, così come previsto dalla legge, per garantire almeno il 50% di quote rosa. Due assessori sono consiglieri eletti e dunque lasciano il posto ai primi, dei non eletti delle rispettive liste. Per altri due assessori si tratta di un ritorno. Avevano fatto parte anche dell'esecutivo di centro-sinistra guidato da Petrarcone. Tutti gli assessori sono laureati. Ecco nomi e deleghe. Francesco Carlino, indicato dal PD, vice sindaco, con delega ai lavori pubblici, patrimonio, protezione civile e informatizzazione. Barbara Alifuoco, sempre in quota PD, è la delegata agli affari generali, affari legali, polizia locale e personale. Chiara Dellicolli, candidata ma non eletta nella lista del PD, è assessore alle attività produttive e al commercio. Danilo Grossi, già assessore con Petrarcone ed ideatore di tanti eventi culturali in città, è l'assessore alla cultura e comunicazione e innovazione digitale. Luigi Maccaro è delegato del sindaco per le politiche sociali, politiche giovanili, periferie e integrazione. Maria Concetta Tamburrini, della lista Salera Sindaco, ha la delega alla pubblica istruzione, turismo, sport e pari opportunità. Emiliano Venturi, anche lui già assessore della giunta Petrarcone, ha la delega all'ambiente, manutenzione ed urbanistica. Le deleghe al bilancio e tributi e per ora anche la sanità restano invece gestite direttamente dal sindaco, già assessore alle finanze, nel quinquennio 2011-2016 nella giunta Petrarcone. Il presidente del Consiglio Comunale sarà Barbara Di Rollo, risultata prima degli eletti. Ci spostiamo a Bovilleernica, dove un finanziamento di 70.000 euro verrà utilizzato per l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica. Un finanziamento pubblico di 70.000 euro investito nella pubblica illuminazione. Questo quanto deciso dal sindaco Enzo Perciballi per la sua città Bovilleernica. Il comune è pronto ad intervenire per ammodernare alcuni impianti con conseguente risparmio sulla bolletta energetica. Ad appena un paio di giorni dalla riaccensione totale di tutti i punti luce dal tramonto all'alba, il sindaco ha dichiarato «la mia amministrazione è riuscita ad ottenere un finanziamento pubblico di 70.000 euro, che abbiamo deciso di investire nel miglioramento degli impianti di illuminazione». Ovviamente cominceremo da quelli più vetusti e di conseguenza più despendiosi in termini di bolletta energetica. Le modifiche verranno apportate al centro storico della nostra città e negli altri spazi pubblici su tutto il territorio. Per esempio alle piazze, in cui si trovano le chiese, che rappresentano i principali luoghi di aggregazione per i nostri concittadini. Fra l'altro, in queste aree vi sono ancora installati lampioni che consumano ben 150 watt ciascuno. Lo stesso discorso vale per il centro storico, dove verranno installate lampade a LED e lanterne, nel rispetto del contesto artistico ed architettonico. Un intervento, conclude il sindaco, che abbiamo ritenuto necessario per due ordini di motivi, abbassare i consumi e ridare di coro ai nostri spazi pubblici. Spazio allo sport. Per il calciomercato, Camillo Ciano, sempre più vicino al Parma, infatti le due società avrebbero raggiunto un accordo. Camillo Ciano ha un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Parma. Accordo vicino per il giocatore che dovrebbe sottoscrivere un contratto valido fino a giugno 2022, a sbloccare la trattativa all'inserimento nell'accordo di Manuel Scavone, difensore reduce dal prestito a Lecce ma di proprietà del Parma, che verrà girato al club di Patron Stirpe. Alla società giallo-azzurra anche un conguaglio economico, che le due società dovrebbero definire già in settimana, per arrivare a stretto giro di posta alla fumata bianca. Intanto c'è grande attesa tra i tifosi per la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, che si svolgerà domani mattina. Stando alle parole pronunciate dal presidente Stirpe, qualche tempo fa, quando il Frosinone ancora combatteva per la massima serie, dovrebbero esserci infatti grandi sconti sui abbonamenti. I tifosi che hanno attualmente l'abbonamento, disse Stirpe, potranno esercitare una prelazione, per riceverne uno nuovo per la stagione di Serie B, ad un prezzo che è il 40% del valore del prezzo dell'abbonamento del campionato di Serie B del 2017-2018. È tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento.